benvenuti in altinia sono renzo griò segue il brand xerox dal 2013 ed in questo video vi illustrerò il progetto di rivenditore autorizzato per prodotti xerox molti di voi ricorderanno questo marchio la xerox sia innovata per tutti gli aderenti al progetto potranno utilizzare i loghi come partner anche tu puoi entrare nel meraviglioso mondo di xerox anche noi abbiamo un logo di partner per i nostri clienti altinia xerox partner a xp ora vedremo in breve i prodotti la gestione dei consumabili con ricambi la formazione per certificare il vostro tecnico all'assistenza post vendita i nostri servizi finanziari e vari strumenti molto utili queste sono le principali soluzioni dei modelli office a tre colore divisi in tre famiglie versa link a 20 25 30 pagine minuto alta link con gamma da 30 35 45 55 70 pagine minuto una novità la gamma entry level per le stampe professionali di produzione con i nuovi modelli prime link a 65 e 70 pagine minuto ricordando che i modelli hanno la possibilità di aggiungere accessori come finisher alimentatori finitura libretto ed inoltre il rip di efitalia xerox ampia gamma per tutte le vostre esigenze aderire al progetto a xp consente di migliorare l'efficienza operativa a livello complessivo tramite l'ecosistema della tecnologia con e key e una combinazione di hardware ed una serie di comune di soluzioni software app sviluppate da xerox e dai suoi partner per contribuire a semplificare e migliorare il modo di lavorare dei propri clienti aumentare la produttività toner ad alta capacità riservato solo ai partner ed un'interfaccia utente semplificata aumentare la soddisfazione degli utenti finali con la personalizzazione dei multifunzioni controllare i costi di gestione grazie al tool online dedicato per il calcolo costo pagina avrete la possibilità in autonomia di gestire l'assistenza ai vostri clienti direttamente grazie alla fornitura dei ricambi xerox tramite altinia altinia è certificata per la formazione di tecnici xerox tramite corsi in aula completamente gratuiti erogati presso la sede di casale sul sile treviso e la nostra filiale di roma altinia offre un'ampia area dedicata di servizi finanziari e per i nuovi partner a xp esiste una soluzione aggiuntiva fornita da xerox chiamata sirex anche per gli enti pubblici i partner potranno accedere ad un'area riservata e dedicata ai prodotti xerox ricca di documenti video offerte e molto altro altinia vi presenta lo staff di professionisti per i nostri servizi offerti grazie per la vostra attenzione e vi aspettiamo